Affrontiamo quindi la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio e così anche di altri soggetti. Qui in particolare approfondiremo la nozione di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio, la differenza tra le due figure e inoltre approfondiremo le esercenti servizi di pubblica necessità e poi la cessazione delle qualifiche. Iniziamo quindi dalla figura più importante, ossia il pubblico ufficiale. L'articolo 357 del Codice Penale stabilisce che agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Quindi è pubblico ufficiale che esercita una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Questa deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi ed inoltre deve determinare la formazione o la manifestazione della volontà della pubblica amministrazione che può avvenire mediante poteri autoritativi o certificativi. L'incaricato di pubblico servizio è invece stabilito e previsto dall'articolo 358 ACP dall'articolo successivo e che stabilisce che agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di mansioni semplici di ordine o della prestazione di opera meramente materiale. Alla luce di questa nozione è incaricato il pubblico servizio, quindi chi presto un pubblico servizio ha qualsiasi titolo, attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma non ha i poteri propri della funzione. Quindi non lo è infine espressamente chi svolge compiti meramente materiali oppure semplici mansioni d'ordine. Quindi approfondendo la differenza, valutando la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, in questo schema vediamo che il pubblico ufficiale è un privato o un pubblico dipendente, così come l'incaricato di pubblico servizio esercita nei casi previsti dalla legge il pubblico ufficiale, mentre invece l'incaricato di pubblico servizio esercita qualsiasi titolo, quindi non è necessario una previsione normativa, un atto, un titolo che necessariamente legittimi o preveda questa attività che si sta svolgendo. Il pubblico ufficiale svolge una pubblica funzione, invece l'incaricato di pubblico servizio svolge un pubblico servizio. Entrambe i casi devono essere previsti da norme di diritto pubblico e l'attività del pubblico ufficiale esprime o manifesta la volontà della pubblica amministrazione, viceversa, anzi all'opposto, l'incaricato di pubblico servizio non ha poteri della funzione esercitata. Il pubblico ufficiale esercita poteri autoritativi e certificativi, mentre invece non ne ha poteri autoritativi e certificativi di incaricato di pubblico servizio. Dunque, brevemente, per fare qualche esempio, il pubblico ufficiale sono sicuramente i membri del Parlamento, sono sicuramente i giudici, quindi coloro che esercono una pubblica funzione legislativa o giudiziaria, sono sicuramente gli organi della pubblica amministrazione sia centrale che locale, sono pubblico ufficiali tutti coloro che esercitano le funzioni proprie anche dell'ente locale, quindi la polizia locale, così come le forze di polizia governativa, sono pubblico ufficiali gli ufficiali di anagrafe, ma anche gli addetti agli uffici anagrafe, perché loro svolgono poteri certificativi, così come sono pubblici ufficiali messi, caricati di pubblico servizio, sono tutti coloro che svolgono un pubblico servizio, ma che non si concretizzi nell'esercizio di un potere autoritativo o certificativo. Questo, ad esempio, sono le guardie giurate che esercitano un pubblico servizio, espressamente previsto da norme di diritto pubblico, sono incaricati di pubblico servizio al di fuori della loro funzione sanzionatoria, gli addetti alle strisce blu, ripeto, al di fuori della loro funzione sanzionatoria, perché nel momento in cui esercitano le loro funzioni di polizia stradale, sebbene limitata, svolgono un potere autoritativo, che è quello sanzionatorio, ma al di fuori di questo essi sono incaricati di un pubblico servizio, quindi la loro attività, ad esempio di vendita, dei tagliandi di sosta, è un pubblico servizio e non certo una funzione pubblica. Sono altresì incaricati di pubblico servizio tutti coloro che svolgendo questo pubblico servizio non facciano compiti meramente esecutivi o attività d'ordine, ad esempio in questo senso i bidelli sono incaricati di pubblico servizio perché non si limitano semplicemente alla pulizia delle aule, ma collaborano con gli insegnanti alla vigilanza sulla sicurezza degli studenti, degli alunni e quindi svolgono una funzione di incaricati di pubblico servizio, viceversa non lo sono sicuramente gli autisti, pur se dipendenti pubblici, non lo sono gli operai addetti alla manutenzione delle strade, quindi tutti coloro che svolgono mansioni meramente d'ordine oppure esecutive, gli usceri e così via. Allora, esercenti servizi pubblici a necessità è l'ultima figura di cui ci occuperemo ed è prevista dall'articolo 351 del Codice Penale che recita testualmente agli effetti della legge penale sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità, i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. Ed inoltre lo sono i privati che non esercitando una pubblica funzione né prestando un pubblico servizio adempio di un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione. Vediamo quindi i requisiti fondamentali. quindi esercitano un servizio di pubblica necessità che esercitano professioni forense o sanitaria, professioni per le quali è prevista una speciale abilitazione, l'iscrizione in un albo e della quale il pubblico è obbligato a valersi. I medici e gli avvocati sono figure per le quali il pubblico non può farne a meno. Inoltre lo sono anche privati che adempiono un servizio di pubblica utilità dichiarato tale con un atto della pubblica amministrazione e che non siano già pubblico ufficiale in carica di pubblico servizio. Quindi tutti coloro che ad esempio collaborino nelle emergenze di protezione civile quando c'è una dichiarazione da parte o dell'autorità di protezione civile, ossia il sindaco dell'autorità locale di protezione civile oppure delle altre figure previste a seconda della categoria di emergenza e quindi il prefetto piuttosto che il capo della protezione civile. Ecco, adesso approfondiamo il concetto del tempo, ossia quando terminano queste qualità. L'articolo 360 CP parla della cessazione della qualità di pubblico ufficiale ma lo estende anche alle altre figure e recita testualmente. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale prevista dall'articolo 357 CP come abbiamo visto, o di incaricato di pubblico servizio previsto dall'articolo 358 CP o di esercente un servizio di pubblica necessità previsto quindi dal 359 CP, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità nel momento in cui il reato è commesso non esclude l'esistenza di questo nella circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato. Quindi non basta che ai fini dell'applicazione ad esempio dei reati propri di questi soggetti, i reati propri del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio, del reggere recente un servizio di pubblica necessità, ai fini della qualificazione del reato oppure dell'aggravante si tiene conto non della cessazione formale di questa qualifica ma della cessazione sostanziale, cioè si ritiene che questa qualità perduri laddove il reato è comunque collegato a questa qualità. Grazie.